Scrivi tutto quello che dici, mi raccomando. Perché ci hanno messo due anni per i risultati del DNA? Non siamo qui per questo, eh? Avrebbero evitato tutto il resto. Ashley, per favore. Ok, ok. Prego? Sono l'ispettore McLearny. Ashley Porter, assistente dell'ispettore. Registreremo tutta la conversazione. Si sente bene? Stai usando la mano sbagliata. Ora mi rilasso un po' anch'io. Bravo. È difficile essere il re. Questi non ti servono. Servono. Io. Mi piace quando ansemi così. Lo facevi anche quella sera. Com'è bello. Sarebbe piaciuto anche a Tamara. Ti piaceva guardarci? Amavo guardarvi. Come ti faceva sentire? Orgogliosa e felice. E poi? E' eccitata. La mia missione è farti godere. Ciao. Grazie a tutti. Che cosa è? Vieni, vieni se ti piace. È buona. Sei stato via tre ore. Te la sei scopata? È ancora pura. È ancora pura. È ancora pura. Però la vuoi? Ammettilo. Mi sposerai? Ma certo. Io ti amo. Però a lei è una cosa che tu non mi hai dato la nostra prima volta. Cosa? Tu mi ammigarla? Tu sei il re. Ah sì? Se il tuo re volesse una vergine? Se lei non vuole... Non deve saperlo per forza. ... 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 Mi ha detto che dovevamo ammazzarla perché ci aveva visto in faccia. Ha partecipato agli abusi sulla minore? No. Sì. E se trovassimo gli altri videotape? Quelli su Tamara? Non ci sarebbe niente che la riguardi? Ma certo, se le scopava anche lei. Moderi il tono. Ci stanno mentendo. Uno dei due ci sta mentendo. No, tutti e due ci stanno mentendo. Non ho ucciso io, Tyra McDonald. E lì è una Parker? Come l'avevi adescata? Mi ha portato in giro a cercare un'altra ragazza che piacessi anche a lei. In un parcheggio? Lui l'ha vista e ha detto voglio lei. Un piano giorno in un parcheggio? Sì. Era elettrizzata l'idea. Lui teneva un coltello in mano e la miocciava. Mi ha aiutato a tenerla ferma e l'abbiamo spenta in macchina. Poi però l'ha strangolata perché non aspettavano i miei per il franzo di Pasqua. Così avresti avuto l'alibi perfetto per quando avrebbero scoperto il corpo. Quello che ho pensato quando mi ha proposto di farla fuori. Perché non è mai intervenuta? Perché le piaceva. Me l'ho detto. Non lo so. Lei pensa che i suoi colleghi sporcheranno la mochetta quando verranno a fare il sopralluogo? Si può avere una sigaretta? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.